No, ma Gasperino, quello all'amico tuo che c'era l'olificio che era andato in pensione, che tu c'era andato, che c'era anche l'olificio che funzionava l'olivo, che c'era mandato il nipote, ha levato tutti gli olivi e ci ha fatto un campo da broccoli. C'è una cosa pazzesca ha fatto, grosso. Tu dal coro c'erano tutti quegli olivi di lì? Ma quella è stata anche mia. Come sia? Gasperino? Che il nipote giocava a frisbee con me, ti ricordi? Sì, non è me. Eh? Ti ricordi o no? Eh, mi ricordo, che mi ricordo? Non so chi è. Mi si chiama Gasperino o Giovannino, che giocava a frisbee con me e il nipote, che andavamo sempre di riverso brufa. Ti accorre o no? Ma perché mi fanno pure? Cambi di bravo. Ah! Ma dai! Ah! Mi sei capo. Ma sei scema? Tutto è scema. Che c'è? Ma questo è scema. Prendetelo qui sta! Non è tutto, tutto! Non faccio resistenza. Oh no, ma tu che ne pensi di Shakira Epiqué? Salita Epiqué, è un picchier. Epiqué? Ma che cazzo dici? Shakira Epiqué. Ma che dici? Ti sei salita Epiqué? Chi è? Chi sono? Ma come no? Ma che cazzo ne so io se sei salita Epiqué? Ma chi cazzo sono? Ci sarà fanculo. Tutto è loro! Grazie a tutti.